Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Forza vecchio cuore rosso nero, forza vecchio cuore rosso nero, ed i colori che noi portiamo sono la gloria, sono la gloria, ed i colori portiamo sono la gloria e il rosso nero. Forza Milanole, forza Milanole, 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 Milanole! Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione e campanellina, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Primo commento per Team Maglie Calcio, descrizione video per Matteo Chiamenti, iscrivetevi da Matteo, Matteo Chiamenti è uno della nostra famiglia. Iscrivetevi da Matteo e tutti i miei social, Instagram e Facebook. Allora sarà un video un po' lungo perché andiamo a fare le pagelle, andiamo a fare le pagelle. E ragazzi benvenuti nel 2023, rosso nero! Partiamo col botto, una grande, gran, bella partita dei ragazzi ieri. Quindi fare il commento a freddo possiamo anche non farlo perché comunque nelle pagelle spiegheremo anche tutto quello che è andato bene e anche le poche cose che non sono andate. Allora partiamo subito, veloce, bando alle ciance, via subito con Tata Russano, l'unico flop della giornata. Tata Russano, voto 8, finché non si muove, appena viene chiamato in causa, voto 2. E ragazzi, 8 più 2, 10, diviso 2, 5 per Tata Russano, l'unica insufficienza della partita per quanto riguarda la nostra squadra. Fa troppo il compitino, non fa mai qualcosa in più. È un portiere che da poca sicurezza i ragazzi ne risentono. Fortunatamente è rientrato un pilastro della difesa. E parliamo di Davide Calabria. Voto 6,5 ragazzi. Il rientro di Davide Calabria è fondamentale per gli equilibri della nostra difesa. Ma non solo. Davide Calabria riesce, sotto l'aspetto tattico, a dare qualcosa in più alla nostra squadra. Un giocatore che entra dentro il campo. Un giocatore al quale ormai è complicatissimo andare via. Ed è un dato di fatto che dopo l'uscita di Calabria subiamo il gol. Subiamo il gol in uno svarione difensivo dovuto al cambio di modulo in difesa. Siamo passati per un attimo a tre. Non abbiamo trovato subito le misure, non abbiamo trovato subito le distanze. E abbiamo subito il gol. Da un'azione che poteva essere evitata tranquillamente. Chiaramente poi anche Tata Rusanu ci mette del suo. Quindi Davide Calabria, voto 6,5. Fondamentale! Passiamo dall'altra parte. Teo Hernandez, voto 6,5 anche per Teo. Fino al 65esimo non spinge praticamente mai. Dopo il 65esimo si esalta, inizia a spingere. Le sue progressioni sono importanti. Dai suoi piedi partono le azioni più importanti della nostra squadra. Una catena di sinistra eccezionale. Ripartiamo da dove avevamo lasciato. Teo Hernandez, I train Teo Hernandez, voto 6,5. I due centrali, Calulu e Tomori. Tomori, voto 7. È ritornato il nostro Tomori. Un paio di interventi da grande difensore. Eccezionale, veramente un giocatore eccezionale. Speriamo vada avanti così perché abbiamo bisogno del nostro miglior Tomori. Tomori, voto 7. Ritrovato. Pier Calulu, voto 6. Il voto più basso della difesa. L'ho visto un po' in ritardo di condizione. Un po' pesante sulle gambe. Probabilmente è quello che ha subito di più la preparazione di questo periodo. Abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di Pier Calulu, abbiamo bisogno di tutti i nostri elementi più importanti in difesa. La difesa vista in campo ieri è quella titolare. Con questa difesa nel 2022 abbiamo portato a casa lo scudetto. Possiamo ripeterci anche e soprattutto grazie a loro. Pier Calulu, voto 6. Dai Pier, dai, dai, Pier. Sei importantissimo. Andiamo a centrocampo con Sandro Tonali. Probabilmente il migliore in campo. Assist e gol. Li fanno prendere il voto 7. Ma in più la prestazione che fornisce a livello di interdizione ma anche di intelligenza tattica li fa prendere probabilmente il voto più alto della partita insieme al suo compagno un po' più avanti ma ci arriveremo. Voto per Sandro Tonali 8. Sandro Tonali, voto 8. Imperioso Sandro Tonali. Ismael Benasser, voto 7. Ismael Benasser è lui che decide quando il Milan deve accelerare, quando il Milan deve diminuire i giri. È lui che insieme a Sandro Tonali diventa padrone in contrastato del centrocampo. È lui che in questo momento fa anche il lavoro sporco che nella scorsa stagione era di Frank. È impressionante come Ismael Benasser sia diventato il giocatore imprescindibile per questa squadra. Ismael Benasser, voto 7, imprescindibile. Andiamo più avanti, andiamo più avanti, andiamo sulla tre quarti. Partiamo da destra con Alexis Selemacherz. Voto 6,5. Finché è stato in campo è stato fra i migliori. Fra i migliori lo trovavamo a destra, a sinistra, in alto, in basso. Ha coperto tutto quello che c'era da coprire. Un ragazzo fondamentale negli equilibri tattici di questa squadra. Uno di Stefano Pioli. Una figura di Stefano Pioli. L'ha plasmato, lo ha lavorato fino a farlo diventare il giocatore che vediamo oggi. Continuate a chiedergli gol in più, continuate a chiedere sempre di più ad Alexis Selemacherz. E sono d'accordo con voi perché il potenziale c'è. Step by step Alexis Selemacherz è il nostro futuro. Continuiamo a chiedere interventi sulla fascia destra. Ma perché Alexis Selemacherz non può essere quell'esterno destro di cui abbiamo bisogno? Alexis Selemacherz, voto 6,5. Importantissimo. L'equilibratore. Andiamo in mezzo. Andiamo in mezzo al campo. Andiamo da Brahim Diaz. Voto 6 per Brahim. Perde due palloni velenosissimi a un certo punto. I classici palloni persi da Brahim Diaz. Poi però fa buonissime cose. È un giocatore che a me piace. E in questi giorni parleremo anche del riscatto di Brahim Diaz. In qualche video cercherò di parlarne. Brahim Diaz è anche lui un giocatore che piace tanto a Stefano Pioli. Probabilmente sono quel tipo di giocatori che i tifosi non capiscono ma che per un allenatore diventano fondamentali. Un po' come Rade Krunic. Brahim Diaz è un giocatore che puoi mettere in tante zone del campo. Lo puoi mettere a destra, lo puoi mettere a sinistra, lo puoi mettere in mezzo, lo puoi mettere a girare intorno all'attaccante. Perché sono quei jolly che una squadra ha bisogno. Chiaramente è un giocatore. Ieri sera stavamo facendo il conto in live. Pietro va davanti al computer. Tante partite, tanti minuti, pochi gol e pochi assist. Serve qualcosa di più dal numero 10 del Milan. Però attenzione, attenzione, con De Ketler potrebbe diventare una coppia che si alterna e che diventa devastante negli schemi tattici di Stefano Pioli. Brahim Diaz, voto 6 da rivedere per capire se il Milan deve tenerlo oppure deve lasciarlo volare via. Voto 6. Rafa Leao, insieme a Sandro Tonali, il voto più alto. Voto 8. Nicola decide di mettere su Leao Lovato. Leao fa letteralmente impazzire. Prima Lovato e poi l'altro difensore a quale Leao fa prendere un cartellino giallo dopo una skills eccezionale. Ieri Leao ha definitivamente riscritto i dettami dell'esterno sinistro. Leao sta facendo da apripista a un nuovo modo di intendere quel ruolo. giocatori devastanti come Rafa Leao ce ne sono davvero pochi. Ce ne sono davvero pochi, praticamente nessuno. Ormai Leao ha uno status, non per quanto riguarda l'aspetto economico, ma per le idee, per quello che fa vedere in campo. Dei grandi giocatori ultrapagati, però attenzione a Rafa Leao. Rafa Leao deve trovare una continuità, deve subire meno l'umore della squadra. Rafa Leao è il classico giocatore che se la squadra funziona è da 10. Se la squadra non va male, fa fatica a prendersi sulle spalle la squadra. Leao, voto 8 per la partita di ieri, si deve convincere. È un giocatore che si deve convincere di quanto è forte. Rimanere al Milan sarà fondamentale per il proseguo della sua carriera. Non deve pensare ai soldi. Un giocatore come Leao è un giocatore destinato a guadagnare, a diventare l'imperatore incontrastato del calcio europeo. Però deve dare tempo al tempo. I soldi arriveranno, adesso deve pensare alla carriera. E il Milan è la squadra che può farlo diventare non grande, di più. Leao, voto 8. Olivier Giroud, voto 6,5. Si sbatte, sgomita, smanaccia, ne prova di tutto, fa di tutto per fare gol. La palla non entra mai, però ragazzi il lavoro di Olivier Giroud è impressionante. È un ragazzino di 37 anni che dà la biada a tanti ragazzini. Fa vedere cosa vuol dire, qual è l'importanza dell'allenamento e quanto è importante avere la mentalità giusta. Ricordiamoci che arriva da una batosta importante dal mondiale, pur essendo stato uno dei migliori del mondiale. Olivier ieri aveva bisogno del gol, voleva fare gol, ha dimostrato di voler fare gol e ci ha provato in tutte le maniere. Solo un grande Ochoa non ha dato modo a Olivier di festeggiare l'inizio del 2023. Voto 6,5 per Olivier Giroud. Andiamo alle sostituzioni. Sono entrati Dest, De Ketler, Gabbia, Vrancs. Questi sono i giocatori che sono entrati. Allora, Serginio Dest, voto 6, rischia di fare un gol eccezionale. Stefano Pioni trova finalmente la posizione giusta per questo giocatore. Non ha compiti difensivi e riesce ad essere un giocatore molto simile a Selema Kers. Nel senso che è un altro giocatore che può dare degli equilibri importanti alla squadra, essendo lui di partenza un terzino. Quindi, è vero, non sarà un grande terzino sinistro e dubito che potenzialmente può fare lo stesso percorso di Theo Hernandez, anche a livello difensivo. Però è un ragazzo che ha la difesa nel sangue, ci ha sempre giocato e quindi è in grado di capire quando deve rientrare. È un po' una copia di Alexis Selema Kers. Quindi, Serginio Dest, voto 6, mi è piaciuto molto. Bravo Dest, bravo, bravo Dest. Da rivedere anche lui, comunque. Vrancs, voto 6,5. Secondo me, quello che dei nuovi acquisti sta dimostrando di più. Un giocatore che a me piace tantissimo. Ieri Pietro Ilaiva ha fatto un ottimo paragone. Mi sembra, in alcuni momenti, sembra proprio Frank E.C. Quando si mette vicino alla bandierina e protegge la palla. Quando si mette di peso, di fianco a chi spinge della squadra avversaria per fermarlo a livello di interdizione. È ottimo. Chiaramente ha i piedi molto meglio di quelli di Frank E.C. È un giocatore che può diventare veramente importantissimo per il centrocampo del Milan. Qualcuno ieri mi ha chiesto se nelle gerarchie può aver superato Pobega. In alcune situazioni assolutamente sì. Assolutamente a centrocampo ne sono convinto. Chiaramente, se il Milan avrà bisogno di un trequartista più muscolare, probabilmente Pobega ancora davanti, ma proprio per visione di gioco e aspetto tattico. Però Franks è un giocatore che, sono convinto, può fare veramente, veramente bene. Gabbia, Matteo Gabbia, voto 6. Quando entra lui la difesa si mette a 3. Non troviamo le misure, non troviamo le distanze subito. Pioli ritorna a 4 con Calulu sulla destra. Gabbia fa il suo compito, lo fa bene, chiude tutti gli spazi. È un giocatore che ha anche i piedi molto ben educati e quindi riesce a dare il là alle azioni. A me Gabbia piace. A me Gabbia è un giocatore che piace tanto, tanto, tanto. Gabbia, voto 6. Charles de Ketlare. Charles de Ketlare. Io, ragazzi, voglio dare a de Ketlare un voto molto, molto alto. Un voto che, perché ho fiducia, ho tanta fiducia in questo ragazzo, voglio dare un 7 a Charles de Ketlare. Sicuramente qualcuno mi scriverà, no, è mezz'ora, 7 a de Ketlare. Non è giusto, è un voto troppo alto. Io mi sento di dare a de Ketlare un voto alto, perché ieri, per la prima volta, abbiamo visto il vero de Ketlare. Dobbiamo avere fiducia in questo ragazzo, perché è un predestinato del calcio. È un predestinato del calcio. E solo se de Ketlare entrerà definitivamente nei meccanismi del Milan, allora vedremo in campo il Milan che Stefano Pioli aveva pensato, insieme alla dirigenza, aveva pensato a inizio stagione. De Ketlare è fondamentale, perché Stefano Pioli così potrà sviluppare le idee che aveva a inizio stagione. Era un Milan pensato con un trequartista qualitativo, tecnico, di grande fisico e con tanta visione di gioco. Fino ad oggi non siamo riusciti a espandere questa visione di gioco, perché per tanti motivi avete notato come de Ketlare al rientro di Calabria e Selema Kers si sia visto molto di più. Un po' come a inizio stagione. De Ketlare ci aveva fatto vedere delle buone cose a inizio stagione quando la catena di destra che dava equilibrio c'era. Ecco, io sono convinto che col fatto che Davide Calabria e Selema Kers sono rientrati gioveranno molto anche a Charles de Ketlare. E il fatto che de Ketlare possa entrare negli schemi tattici di Stefano Pioli ne gioverà anche al centrocampo, perché Ismael Benasser avrà meno compiti difensivi, perché magari fisicamente de Ketlare può iniziare a bloccare lui le azioni avversarie e avremo l'esplosione a livello offensivo di tanti giocatori. Di tanti giocatori. A de Ketlare in questo momento manca veramente un gol per dargli fiducia. Ieri ci ha provato in tutte le maniere e io sono contento. Quindi voto 7 per Charles de Ketlare. Ragazzi, Stefano Pioli. Voto 8 per Stefano Pioli, per il nostro allenatore. Ha usato il bastone al posto della carota e ha fatto bene. Ha fatto bene. Ogni tanto con i ragazzi giovani bisogna dare qualche sberla. E il fatto di non aver dato il giorno di riposo, secondo me ha fatto bene. La strigliata che ha dato ai ragazzi ha fatto bene. Lo abbiamo visto ieri in campo. I ragazzi sono scesi in campo con un approccio fenomenale, belli determinati, con la faccia incazzata. Ed è questo il Milan che vogliamo vedere. Ragazzi, i ragazzi saranno già ad allenarsi oggi. Testa subito alla Roma. Mi raccomando, sempre al fianco dei ragazzi. Vi voglio bene a tutti. Sempre forza vecchio cuore rossonero. Ricordate, su questo caso si fa la vecchia maniera. Noi siamo vecchio stampo. Ciao a tutti. Oh, azza Cina. Oh, azza Cina. Dino che siamo tutti i delinquenti. Solo perché ci danni e parecci denti. Se ci sarà lo scopro sarà les vale. Vi manderemo tutti.